Ha impugnato la pistola, ha ucciso la figlia con un colpo, poi ha rivolto l'arma a conto di sé e si è tolto la vita. La tragedia si è verificata nel primo pomeriggio, sotto il portico di questa abitazione a Contrada Bosco dei Preti, alla periferia di Avellino. Le vittime dell'omicidio e suicidio sono Costantino e Alessandra Mazza, di 61 e 35 anni. Lui è un idraulico molto conosciuto e apprezzato in città. Lei è statista e parrucchiera, una ragazza da carattere solare, la definiscono così gli amici. Una giovane però anche molto fragile, considerando la grave patologia che a volte gli alterava l'umore, provocando sembra anche dei vibranti contrasti con i familiari. Una condizione per la quale Alessandra era da tempo sottoposta dai sanitari a un ciclo di terapie. Ad allertare i soccorsi sarebbe stata la moglie dell'uomo, che al momento della disgrazia si trovava dentro casa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e l'ambulanza del 118. Il medico legale Carmen Sementa ha eseguito una prima ispezione cadaverica disposta dalla magistrato Luigi Iglio. Osta sotto sequestro, l'arma, una pistola di piccolo calibro, legalmente detenuta dalla proprietario. Alla base del dramma, almeno secondo quanto accertato dagli investigatori, ci sarebbero i rapporti diventati sempre più tesi tra padre e figlia. Costantino Mazza, da pochi giorni, era stato dimesso dall'ospedale Moscati, dove era stato operato di appendicite. Alessandra Stamane, racconta un'amica, aveva riferito di essere preoccupata per il padre che stava attraversando un periodo di depressione. E alle sette, sempre di questa mattina su Instagram, la storia con la sua adorata Margherita, la sinella che la giovane spesso postava sui social. Difficile comprendere cosa sia scattato nella mente del 61enne. Di sicuro, come sottolineano alcuni conoscenti e vicini di casa, la situazione, seppur delicata, non lasciava presagire una così immane tragedia. Quando è scesa la sera, le salme sono state trasportate all'obitorio dell'ospedale Moscati, lacrime e urla di disperazione. Hanno rotto la capa di silenzio, calata sulla piccola contrada rurale. Il pianto di un'intera comunità, di una famiglia lacerata dal dolore, l'ha detto il cancello della casa dove si è registrato il grave fatto di sangue. La voce è rotta dallo strazio di chi chiede rispetto, perché in questo momento ha il cuore strappato dal dolore.